La viscosa lucida e sottile certificata FSC ci permette di contrastare un lino certificato European Flex, creando fasce di contrasto di tonalità e materiali. Otteniamo così un filato sfumato estremamente raffinato, in cui righe di tonalità diverse si alternano, creando contrasti delicati e tonali o maggiormente aggressivi per esaltarne l'utilizzo grafico. Un filato che può lavorare da solo, ma che diventa, nelle interpretazioni dello stile, base di nuove disegnature da lavorare sulla finestra 7, mantenendo comunque una cadenza e un peso decisamente estivo. La cartella colori è ampia e varia e ha segnalato i colori pronti per campionatura, per gli altri serviranno chilogrammi 8, realizzato in colori pretinti per il colore campione e contattare l'ufficio commerciale.